Amici e amiche di Canaria 78, siamo qui al monte Stanvicino dove quest'oggi inaspettatamente ho trovato un mio amico ovvero un cavallo che mentre stavo facendo delle registrazioni col drone è sceso praticamente da questa parte del monte e qui siamo proprio all'ipovia punto di partenza dell'itinerario ed è qua vediamo, inquadra qualcosa, siamo proprio quasi nell'immediata sotto proprio al monte Stanvicino qui vediamo ancora c'è qualche residuo di neve dei giorni scorsi e qua c'è il nostro amico cavallo che dicevo stavo registrando quando facendo delle immagini col drone e poi se riesco vedo come sono venute e le pubblico anche, come già in passato avevo pubblicato qualcosa qua del monte Stanvicino ed è sceso questo nostro amico cavallo, qua è la zona che fa molto apprezzarsi un branco di cavalli, ci sono circa 4 o 5 che sono qua chiamo un po' perché prima si era avvicinato adesso, era sceso probabilmente e venuto giù per bere andiamo quasi non è tanto abituato in macchina, non è tanto abituato a questa confusione, cerco di non mettermi dietro se no mi dà anche in calcio comunque è sceso dalla montagna da solo tra l'altro si probabilmente è stata la moto che era scesa la moto comunque ecco qui vediamo adesso sta mangiando qualcosa, qui c'è ancora sopra c'è ancora un po' di neve qualche punto spruzzata di neve, eccolo qua adesso sta un po' più fermo ciao, un nostro amico questo adesso mangia un po' lui, siamo riusciti da di qualcosa da mangiare no è buono eh, non vi devo dire che un attimo quando l'ho sentito scende ero spaventato un po' perché ho sentito che veniva giù veloce invece dopo ho visto che era un cavallo pensavo un attimo che fosse un cinghiala addirittura sentendo un po' il passo veloce come scendeva un po' pesante invece era questo nostro amico qua vabbè, no, fa molto piacere vedere qua la natura, questo è un posto bellissimo tra l'altro è lui qua praticamente è a casa sua, no? non c'è il parchetto adesso devo fare qualche altra immagine col drone poi se riuscivo volevo girare anche due immagini qua a Prescicchia che è un paesino qui vicino così ve lo ve lo faccio vedere ve lo mostro ecco qua dall'immediato punta del Monte San Vicino che lo vediamo qua proprio di fronte a noi con la croce la famosissima croce qua c'è il nostro amico e qui la natura parla da sola parla da sola qui poi c'è un itinerario qui solo si fanno delle passeggiate si arriva fino in fondo là dove si va nel bosco qua c'è ancora qualche spruzzo di neve come dicevo è un bellissimo posto adesso cercheremo di girare le ultime immagini con il drone e poi dopo andremo verso o al cima al monte qua o a Prescicchia chissà perché facendo qui un'altra piccola salitina con l'auto salendo per poco si arriva proprio sotto al monte San Vicino anche lì molto bello sotto la cima qua siamo sopra appoggio San Vicino diciamo all'inizio della montagna e niente grazie a tutti e al prossimo servizio